Un prossimo nome che arriva qui a Derezza, avando scopro, ha contribuito con la promozione della ragazza in categoria superiore. Puoi diventarti a Derezza? No, io penso che non vi sia. No, stavo facendo la premessa in piano. Che è quella che è normale che questa squadra ha obiettivi, e le persone che stanno arrivando, che in termini che stiamo facciamo, è un obiettivo anche importante. Io prego sempre una cosa, come sono arrivato a pagare, che nessuno credeva più il Francesco del campionato, è meglio partire, salvarsi, invadere un campionato, e non si può salvarsi, non si può salvarsi, non si può salvarsi. Proclamare l'inizio del campionato, è arrivato in questo momento più, è arrivato a creare l'aspettativa di una qualsiasi. Vediamo una scelta, non è che va a riposare l'estate, perché abbiamo di portare l'aspettativa di un'aspettativa di un'aspettativa di un'aspettativa di un'aspettativa. Io nasco in Roma, dove sono in Seria in San Viglia, poi a Stupetica, e poi a Stupetica, in Seria e a Stupetica, e poi a Stupetica, e lì in Dicola, in Pettica, e poi a Conocetina, in Sion, nel campionato e a Pagani, per il campionato. Benvenuto a Derezza. Grazie. Grazie.